Negli ultimi anni la farmacia è cambiata considerevolmente. Testimonianza di ciò è l'evoluzione del mix dei ricavi e l'ascesa degli acquisti diretti. Il nuovo contesto richiede nuove conoscenze ed altrettante competenze da parte delle persone che vi lavorano, sancendo così l'affermarsi di una nuova figura che unisce alle competenze professionali classiche anche quelle della gestione economica. Dopo nove anni di onorata carriera, ecco che arriva la reedizione del farmacista gestionale. Il nuovo volume è completamente nuovo e non solamente perché ha colori rispetto al precedente che era in bianco e nero, ma perché ha tanti tanti contenuti aggiuntivi. Dalla gestione della farmacia dei servizi, all'apertura di una pagina Facebook efficiente, così come la creazione di un vero e-commerce. Il libro tratta la gestione della farmacia a 360 gradi, partendo dalla promozione del negozio, passando per le tematiche della gamma, le vendite, il personale, il magazzino, per arrivare fino alla gestione economica. Il volume, vero manuale di gestione, offre molteplici spunti, a cominciare per esempio da una riflessione generale sulla gestione della farmacia, ha la possibilità di eseguire un check-up completo di tutte le diverse aree, il tutto in un linguaggio semplice e veloce. Buona riflessione e buona lettura! Grazie per la visione! Grazie a tutti!